la mia idea è questa natale è un periodo meraviglioso però succedono delle cose strane non stranissime leggermente strane e non mi riferisco a quello che capita durante i festeggiamenti cioè le zie anzi gli zii soprattutto che magari bevono un po e dicono cose sconvenienti al pranzo o al cielo di natale o soprattutto sui regali non so ricordo per esempio una volta che ero in pieno delirio per il rock chitarristico americano è ancora un ragazzino e mi regalarono ben tre dico tre copie di buona domenica di antonello venditti e il dramma che antonello venditti aveva immaginato di fare tre copertine di colore diverso quindi quando li spacchettai di fronte appunto alle mie zie e tutti dissero vabbè non stare a cambiarle sono tre copertine diverse tre colori diversi così fai la collezione e vabbè queste sono le cose bizzarre con le quali bisogna fare i conti io parlo soprattutto soprattutto della musica della musica di natale che è una particella fondamentale dei festeggiamenti ogni anno qualcuno incide un disco di natale quelli più famosi quelli meno versioni tradizionali versioni chitarristiche panche elettroniche chiunque fa il suo disco di natale però ci sono alcuni che sono passati nella storia e ce n'è uno secondo me che è più bello di tutti ma ne parleremo dopo anzi diciamo una cosa nel frattempo siccome le cose che dicevo prima di natale se le guardate da vicino sono strane stasera mi sono messo elegante ho messo persino una cravatta ma se la guardate da vicino questa cravatta a snoopy quindi è abbastanza elegante e snoopy è uno dei protagonisti fondamentali di quello che racconteremo ma più avanti se diciamo pronti via una canzone di natale a quale pensate qual è la canzone di natale che tutti conosciamo white christmas di bianconatale quindi una canzone che evoca che cosa evoca la neve il piacere di stare al caldo davanti a un camino una bevanda che ci sostenga che il whisky che qualcosa di meno alcolico però insomma questo è il natale che tutti conosciamo e questa canzone che è diventata famosissima in realtà contiene qualcosa di leggermente strano e che cos'è e questa canzone non è stata composta in svizzera in uno chalet di montagna appunto davanti i vetri appannati a guardare i fiocchi di neve no questa canzone è stata composta nel 1940 da irving berlin che hanno stato uno dei più grandi scrittori della musica della musica del secolo scorso dove alla finta in california cioè sotto un sole coccente in uno di quei risorti dove invece che guardare appunto i vetri appannati le finestre sono aperte e fuori c'è una piscina c'è gente che si tuffa fa caldo e non c'è niente di natale forse questo natale quasi ai tropici sono natale caldo bollente ha ispirato nel suo autore principale appunto in irving berlin un desiderio invece di essere altrove e allora ha scritto questa canzone appunto parlando di fiocchi di neve di natale e gli è sembrato immediatamente una canzone che funzionava tant'è che il giorno dopo ha scritto la sua segretaria le ha telefonato dicendo ho scritto una canzone fantastica anzi probabilmente la più grande canzone di tutti i tempi e questa è una cosa che dicono tutti gli autori molto spesso sono convinti ma in quel caso irving berlin come si suol dire ci aveva beccato perché la canzone diventa la canzone più venduta di tutti i tempi il singolo 45 giri di una volta più venduto di sempre supera la bellezza di 50 milioni di copie soprattutto nell'interpretazione di bing crosby bing crosby è il il crooner per eccellenza sì chiaro è vero è sinatra ma sinatra quella delle ore piccole che fa il cinema e che fa una vita sregolata bing crosby è quello che ci tranquillizza mettete su un disco di bing crosby e anche quelle zie anzi gli zii che forse hanno molestato alcuni dei vostri cenoni di natale si quietano lui è confortante a una bella voce a questo aspetto da parente serio che magari ha fatto anche i soldi ma li ha spesi bene e bing crosby ha una grande voce e incide la canzone e questa canzone come detto diventa il più grosso best seller di tutti i tempi tra bing crosby proprio perché un signore quando verrà intervistato molto spesso su questa canzone dirà semplicemente che era la canzone che funzionava e rilascia una dichiarazione che più o meno questa c'è tipo quella canzone è talmente buona che anche se uno scimpanzè l'avesse cantata sarebbe andato al numero uno molto signorile però a cantarla non è uno scimpanzè e bing crosby e pensate che vende talmente tanto che i master cioè la parte originale sulla quale incise la canzone a un certo punto si deteriorano perché era stato usato troppe volte per reinciderla per rivenderla e per pacificare il natale bianco di tutto il mondo e allora sette anni dopo nel 1947 la reincidono e cercano di fare le cose esattamente nello stesso modo cioè riprendono i musicisti della prima incisione li mettono insieme a bing crosby dicono deve essere uguale a quell'altra perché quell'altra un miracolo funziona perfettamente e più o meno ci riescono e ancora oggi quella canzone quel quel quella meraviglia e che già negli steri di tutto il mondo ed è bing crosby bing crosby a cantarci bing crosby abbiamo detto che lui è confortante è uno che ci rassicura è l'essenza del natale però c'è stato un episodio in cui il cosmo non ha fatto nulla di male rimane il santino della musica pop che conosciamo però è stato abbinato a qualcuno che non è esattamente in linea con quest'idea di natale puro pacificante che la canzone trasmetteva e chi è david bowie ok david bowie il duca bianco trasformismo sesso droga androgino un muro di berlino bowie è un'altra cosa però a un certo punto siccome ogni anno nelle grandi tradizioni nelle mille tradizioni del natale bing crosby faceva un suo spettacolo di natale una registrazione di una mezz'oretta in cui cantava qualche canzone e augurava natale tutto il buon natale tutto il mondo quell'anno non si sa chi qualcuno illuminato sicuramente con uno sguardo avveniristico decide e se questo special invece lo facessimo con bing crosby e david bowie chi ci avrebbe mai pensato nessuno però contattano david bowie e devi bavi insomma come dire è piuttosto piuttosto incerto diceva insomma io non sono esattamente un personaggio da abbinare a bing crosby io non rassicuro io faccio rock and roll che non dovrebbe spaventare o perlomeno negli anni settanta lo faceva ancora ed era 1977 l'anno in cui si doveva incidere questo special l'anno dell'esplosione del punk un anno dove c'è una frattura netta anche nella cultura popolare di quegli anni però poi interviene qualcuno che viene qualcuno che dice no quest'idea tutto sommato può funzionare e chi è e la madre di david bowie peggy bowie per chi dice a suo figlio no devi tu devi farlo perché io tua madre sono una grandissima fan di david crosby cioè io voglio che voi suonate insieme fatelo questa specie io ti voglio vedere con bing crosby probabilmente era un desiderio di come dire di avere per una volta il figlio in una situazione più confortante però alla fine alla mamma non si può dire di no anzi soprattutto a natale e quindi evit bowie decide di incidere con bing crosby questo special e lo special viene trasmesso alla televisione e viene trasmesso anche alla televisione italiana io lo vedrò in un momento di appunto di quei piccoli momenti strani di natale quasi di sfuggita e bing crosby si sapevo chi era passava nei film in bianco e nero nella televisione di quegli anni ma soprattutto sapevo chi era david bowie e le registrazioni sono sono incredibili perché mary crosby la figlia di bing crosby che quella che ha raccontato questo retroscena della madre di bowie dirà che quando si presentarono alle registrazioni bowie arrivò con sua moglie entrambi avevano una pelliccia di visone e avevano i capelli cortissimi dipinti di rosso e il problema di tutti quelli che videro arrivare dissero ma quale bowie qual è la moglie e di là invece c'era bing crosby che era ancora più regular di me come abbigliamento una camicia un gilet che aspettava tranquillamente però però funziona speciale bellissimo potete vederlo tranquillamente ed è uno di quei set in cui succedono le cose apparentemente per caso ma c'è uno studio preciso bowie entra infreddolito dice di abitare vicino a bing crosby gli chiede se può utilizzare il suo piano e così in un'atmosfera rilassata di luci riverberate cantano e cantono peace on earth e little drummer boy che sono 22 classici natalizi e poi tanto per per gradire per deliziare quelli che erano i suoi fan dell'epoca bowie fa una versione quasi improvvisata di heroes il suo la sua canzone sempiterna quella che di natalizio a ben poco appunto si può essere eroi all'ombra del muro berlino ancora divisa non certo white christmas però funziona ed è incredibile ed è in quel piccolo special come c'è qualcosa che appare strano esattamente come qualcosa appariva strano negli occhi di bambino negli anni 70 quando la televisione italiana molto spesso a proprio al 25 di dicembre quando appunto c'era il grande il grande passo degli italiani trasmetteva un certo punto il film di yellow submarine dei beatles ora i beatles si sono confortanti sono quasi dei cartoni animati e quello è un cartone animato per un cartone animato piuttosto strano perché insomma c'è non è così facile seguire yellow submarine soprattutto se hai sei o sette anni soprattutto se sei pieno di panettone e datteri e magari quegli zii che spesso bevono ti hanno fatto bere due dita di vino e tu sei un bambino e cerchi di capire questa storia degli omini che cascano nei buchi e si ti piacciono i beatles e si ti piace yellow submarine e si ti piace quando in yellow submarine sente un certo punto qualcuno che dice posti di rivista ma come i beatles sono italiani no semplicemente in quella canzone danno degli ordini tipici di chi sta su un sottomarino in tutte le lingue però ecco allora se tu lo seguivi dicevi però insomma questi sono cartoni animati cartoni animati sono cose nostre di noi bambini però forse questo cartone animato è un po troppo intelligente ma il problema che non è un problema è che i beatles erano sempre intelligenti e allora grande capacità di comunicare avveniva anche in queste situazioni i beatles in realtà hanno una lunga una lunga tradizione anche natalizio pubblicavano degli epi dei piccoli 45 giri dove loro facevano gli auguri i loro fan e scherzavano fra di loro una solita maniera dolce intelligente come se fossero sotto l'albero a scantare dei regali paul mccarni ha fatto delle bellissime canzoni di tale wonderful christmas time e mal of kintar una canzone che nasce come come folk delle delle isole a nord della scozia diventa poi un classico natalizio esattamente come john lennon ha fatto epi christmas war is over che è diventato un altro classico natalizio anche se nasce pure lui con presupposti e qui c'è il piccolo strano natalizio diversi c'è una canzone che in realtà celebra la fine della guerra del vietnam che è sicuramente un ottimo regalo ma è uno dei tanti contributi di lennon politici trasformati come sapeva fare soltanto lui in grande maestria pop ecco abbiamo detto una cosa fondamentale maestria pop e soprattutto abbiamo detto cartone animati quella dei yellow sun c'è una canzone che per me è la più bella canzone di natale di tutti i tempi che mette a posto tutto mette a posto i cartoni animati mette posto il pop mette a posto la maestria compositiva e questa è christmas time is here di vince guaraldi chi è vince guaraldi vince guaraldi è il jazzista che probabilmente non conoscete ma che d'oggi in poi dovrete amare è un jazzista un pianista e ha uno stile particolare estremamente lineare morbido quasi pop che talvolta si dimostra più ritmico ed è quel tipo di jazz che piace anche a chi non ascolta il jazz ora paolo conte ci insegna che le donne non capiscono i jazz il jazz ma molto spesso non lo capiscono neanche i maschi nessuno capisce il jazz ogni tanto c'è questo problema che per ascoltare jazz bisogna essere intelligenti non è vero oddio forse per capire certi passaggi di free jazz bisogna essere molto intelligenti ma il jazz è una musica una musica che comunica come tante altre ed è al servizio molto spesso di qualcosa dell'intrattenimento della malinconia e può essere al servizio anche di cartoni animati fermi un attimo diciamo ancora due parole su chi è vince guaraldi appunto abbiamo detto un grandissimo pianista in realtà vince guaraldi nasce con un nome bellissimo per noi italiani il suo nome reale è vince anthony dell'aglio quindi sicuramente radici italiane la madre si chiama carmella duelle forse un errore al momento della nascita carmella marcellino di cognome ed è fantastica e lo zio lo zio di vincent di vince guaraldi perché poi la madre divorzierà si sposerà con il signor guaraldi che diventerà padre ufficialmente di vincent lo adotterà lo riconoscerà ecco lo zio ha un ruolo abbastanza fondamentale nella formazione di vincent guaraldi è un altro nome fantastico lui si chiama mazi marcellino ed è un fischiatore lui è bravo a fischiare ma è talmente bravo che il fischiatore di moltissime opere musicali teatrali ma non soltanto comincia anche lui avere a che fare un po col cinema e forse con i cartoni animati perché il fischiatore ufficiale di moltissimi cartoni di topolino ed è il fischiatore ufficiale niente meno che di lessi so se mi spiego comunque vince vincent guaraldi comincia a suonare e bravo ed ha uno stile suo estremamente particolare che sta a metà fra appunto il jet tradizionale quello che richiede un pochettino intelligenza e quello che grazie a dio più istintivo e che si può godere per la radio e nei musicali e lui ha una formazione particolare comincia a suonare insieme a cal chader che è un jazzista che ha delle fortissime influenze latine all'interno di ciò che produce lui si appassiona a queste musiche non proprio come dire abituali in ambito jazz e quindi si sposta leggermente anche verso la musica brasiliana verso la bossa nova incide degli album con boia sete che è un chitarrista e il suo jazz diventa qualcosa di diverso è più simile alla musica popolare più simile al pop è qualcosa che comunica e cosa non da poco rende allegri questa specifica qualità della sua musica lo porta a incidere quello che sarà fino al momento di christmas time is here la sua hit più famosa che cast your fate to the wind fermi tutti immaginiamo a questo punto vincent guaraldi che fa la sua carriera da jazzista però nel frattempo sta succedendo qualcos'altro nel mondo della televisione e sta succedendo grazie a lee menderson che è un produttore di fama della televisione americana di quegli anni che ha in mente di produrre insieme a schultz il creatore dei peanuts non sapete le strisce di charlie brown snoopy woodstock lucy e tutti gli altri vuole incidere uno special televisivo con quei cartoni animati con quei meravigliosi adorabili ragazzini che all'interno delle loro strisce che vengono pubblicate sui giornali non hanno mai ospitato un adulto e che nel loro mondo perfetto e super intelligente sono più adulti degli adulti stessi vuole produrre uno special televisivo mandarlo in televisione però ha bisogno di una colonna sonora adeguata qualcosa che sia in linea con quei personaggi che sappia accoglierli sappia sotto sappia sottolineare e descrivere bene quel mondo meraviglioso e allora un giorno in macchina sta guidando anche qui in california perché la scena sia di vince guaraldi che di tutto ciò che verrà prodotto si pines e quali forniano quindi ancora un natale caldo comunque stanno guidando e schultz è seduto in macchina e sta il crea ripeto schultz il creatore dei pines è seduto in macchina sta guidando lee menderson accendono la radio e boom la radio che cosa trasmette cast your faith to the wind di di vince guaraldi e allora succede qualcosa di di meraviglioso e di semplice lee menderson dice aspetta un attimo questa musica perfetta questa è una musica adulta questo è jazz che parla agli adulti noi si dobbiamo parlare ai bambini perché i pinas sono pur sempre di cartone animati ma sappiamo bene che è una striscia che leggono gli adulti questa musica forse può mettere d'accordo tutto quanto e allora schultz che è d'accordo i due contattano immediatamente vince guaraldi vince guaraldi che è un uomo elegantissimo è quasi lui un cartone animato ha degli occhiali neri molto spessi un po la voody allen e dei baffoni meravigliosi tirati all'insù se voi lo guardate è quasi un'icona pop è perfetto a quella coolness del jazz degli anni 50 ma è perfetto per tentare con ironia anche nel mondo perfetto appunto dei pinas allora lo contattano gli dicono vince scrivici una colonna sonora per il primo special che faremo sui pinas che si chiama che avrà il titolo di e boy named charlie brown un ragazzino di nome charlie brown lui si mette al lavoro capisce esaltato gli piace capisce che può entrare in quel mondo che ha tutti i linguaggi appunto il jazz il pop la musica brasiliana ha tutto per farlo e infatti lo fa in maniera perfetta e un giorno prende il telefono e chiama mendelssohn e gli dice ho un tema perfetto ho scritto una canzone che devi assolutamente sentire però mendelssohn dice no guarda non voglio sentirla per telefono perché poi queste cose perdono sempre un po di efficacia veniamo agli studi e ce li suoni lì e però vince guaraldi vicino guarda devi assolutamente sentirla perché se no io esplodo e allora gliela fa sentire questa canzone si chiama linus and lucy e loro dicono ok è perfetta insomma in sostanza la musica è perfetta i pinas sono già perfetti tutto funziona e lo special televisivo con quelle musiche soprattutto con quelle musiche perché i pinas erano già molti famosi ma tutto il quadrato tutto il mondo perfetto quasi in quelle bocce che agitiamo dove c'è la neve trova una sua perfezione con le musiche di vince guaraldi e da lì parte una collaborazione parte una collaborazione che dura per 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 tutti gli special televisivi sui pinas che verranno prodotti da lì in poi però principalmente su uno e torniamo a natale che il charlie brown christmas che vedete qua che lo spettacolo di natale la produzione di natale dei pinas quindi neve tutti con la slitta snoopy che sulla sulla sua cuccia con la neve sopra e vis guaraldi scrive una musica meravigliosa recupera alcuni temi per esempio quello di linus and lucy ma soprattutto scrive christmas time is here cioè il tempo di natale e qui natale e qui e lo abbina una scena meravigliosa di questo special dei pinas dove tutti prendono le slitte e vanno a divertirsi a a fare skating su su un lago ghiacciato ed ecco questo questo oggetto meraviglioso e il 45 giri in bimbe verde di christmas time is here che una che la migliore in assoluto canzoni mai scritta sul natale perché ha una capacità di pacificare con un tema gezzistico lento morbido evocativo e poi ha un coro di bambini che viene scelto dalla chiesa di san rafael a california la chiesa di saint paul scusate a san rafael in california che è di nuovo qualcosa che ci riporta a un natale dove il natale bianco non è quindi la california e forse segreto è anche che la distanza dal natale classico quella della neve lo rende come dire migliore nella sua nella sua cristallizzazione artistica non averlo immaginarlo lo rende perfetto christmas time is here entra in tutte le famiglie americane e del mondo lentamente esattamente come quella neve che disegnata cade mentre tutti si divertono e ha questa grande capacità non soltanto di essere un tema melodico splendido ma di avere un eco di malinconia che è un eco che risentiamo sempre nelle feste ed è un eco che soprattutto c'è sempre nelle strisce dei peanuts charlie brown non brilla per allegria molto spesso hanno dei problemi che sono i problemi degli adulti quegli adulti che ricordiamo non entrano mai nelle loro strisce forse l'unico adulto che loro decidono di fare entrare nel loro mondo è proprio vince guaraldi che forse un cartoon anche lui che forse un bambino non troppo cresciuto chi lo conosce dirà che lui ha sempre mantenuto una freschezza persino assurda un suo amico lo definirà come il classico bambino che vuol divertirsi sempre che che ha degli eccessi che non si limita che vuole godersi la vita il classico dice che appena uscito lo skateboard è stato il primo bambino ad avere lo skateboard peccato che quel bambino vince guaraldi quando uscì lo skateboard aveva già 30 anni però persa questa capacità gli consente di scrivere questa meraviglia questa meraviglia che quanto di più simile alla perfezione del pomeriggio natalizio che ha un po di pigrizia e torniamo a dire un pelo di malinconia possa essere trasportati in musica tutto questo funziona e e vince guaraldi però giusto come giusto che sia fa un sacco di soldi con con queste con queste colonne sonore ed essendo però un personaggio straordinario decide quasi di uscire dal circuito enorme del jazz anzi è un altro che non ha voglia di spostarsi molto e rimane a san francisco e suona solo più in piccoli club proprio per il gusto di goderseli di stare col pubblico e fa un sacco di date e suona sia le canzoni del suo repertorio che va avanti lui si avvicina sempre di più siamo oramai nella metà degli anni settanta benché questo specie meraviglioso vada in onda nel 1975 lui continua a suonare abbraccia certi temi quasi del rock n roll e poi una sera stanno lui e la sua band stanno suonando in uno di questi piccoli club verso le montagne in california e hanno due set uno al pomeriggio e una alla sera e e vince guaraldi non si sente molto bene però decide di suonare allo stesso con il suo gruppo suona una versione bellissima di elon arribi e di nuovo torno di beatles anche se i beatles tornano sempre poi però prima di un altro set non si sente molto bene improvvisamente si accascia e la parte triste se vogliamo molto più malinconico ma davvero triste e che vince guaraldi muore a 47 anni di un infarto che non era stato capito da chi l'aveva visitato che pensava si trattasse una conseguenza di arnia iatale e lui lui scompare e scompare in un modo improvviso lasciando un'enorme tristezza fra chi lo conosce chi l'ha apprezzato come musicista come essere umano io sono convinto che anche i peanuts charlie bravo di tutti gli altri vanno versato una lacrima per per quello che è stato il loro migliore cantore e ritorno in scena carmella con due l la madre che decide che al suo funerale vengano suonate le musiche e le musiche di christmas time is here le musiche dei peanuts e tutti cercano di convincerla per di l'enorme è troppo sarà veramente difficile troppo triste ma lei invece lo fa lo stesso ed è forse giusto che lui se ne vada con i suoi amici ed è incredibile pensare come mendelsson lee mendelsson il produttore che tra l'altro è quello che ha scritto le parole di questa canzone perché christmas time is here nasce come tema semplicemente strumentale e poi invece viene arricchito con una parte dove ci sono delle liriche un testo che è assolutamente bambinesco ci dice bene il tempo di natale qui godiamo c'è la neve e le scrive lee mendelsson in dieci minuti sul suo tavolo di cucina perché dice che aveva contattato altri parolieri ma nessuno sapeva cogliere quello spirito pensate che lee mendelsson è morto nel 2019 quando esattamente nel giorno di natale che è incredibile i suoi figli diranno per quanto triste ha un senso perché tutto tutto funziona e questa è una parte triste che bisogna dimenticare però non del tutto perché ripeto proprio in questo mondo molto spesso le domande sono filosofiche c'è luci linus e soprattutto linus fa delle domande che nemmeno canta e allora che cosa cosa qual è la lezione di tutto questo l'insegnamento è questo natale si porta dietro canzoni belle non tutti ma alcune bellissime torno a ripetere questa è la più bella di tutte provate anche solo che è una cosa meravigliosa a riguardare durante queste vacanze il film i royal teneban il film la commedia perfetta con la colonna sonora meravigliosa a un certo punto subentra entra all'improvviso anche christmas time is here con quel coro e quell'andamento soffice per me una delle canzoni più belle di tutti i tempi non soltanto a natale perché la vita ahimè lo sappiamo tutti in questi giorni si porta dietro anche un velo di malinconia e questa canzone lo sa fare in un modo egregio e quindi cosa posso dire ascoltatela godetevi queste vacanze provate a entrare nel mondo quasi da cartoon di vince guaraldi e nella sua grandezza trasmessa in una leggerezza sonora meravigliosa e ricordatevi appunto magari che vi succederà qualcosa di leggermente strano a natale fate le stesse cose per quanto possibile difficile lo sarà fatele con un piccolo movimento di scarto una piccola stranezza forse l'esempio del migliore appunto è ancora quello dei pino delle strisce che ogni tanto prendiamo al mattino come una pillola no ce le leggiamo loro cartoni c'è sempre un po di saggezza e ce n'è una di natale dove snupi è sotto la neve sulla sua sulla sua cuccia e arriva lussi che sempre un po sarcastica gli dice una cosa tipo se tu fossi un po più furbo scriveresti qualcosa di natalizio di un po più intelligente poi sapete che snupi è sempre lì con la macchina da scrivere è sempre fermo all'inizio del suo libro era una notte buia tempestosa e allora snupi lo guarda e dice forse pensa che potrebbe aver ragione poi pensa che però il natale va fatto in modo classico e lui deve essere snupi in modo classico e allora si mette lì e scrive era una notte di natale buia e tempestosa e di sottofondo io sono convinto c'erano le note di pianoforte del grandissimo vince guarati quindi christmas time is here sentite buona musica cercate di essere serene e godetevi per quanto possibile questo natale auguri grazie a tutti